Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Tu sei la gioia dei nostri cuori! Tu sei la poeta e il nostro regolio! Viva Francesco e viva vosè! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco! Viva Francesco, viva Francesco, tu sei la gioia dei nostri cuori, tu sei la forza e il nostro regaglio, perciò contiamo ancora così. Viva Francesco e viva Moser. Grazie. Grazie Marcello, facciamo metti Marcello dalla mano. Sì, adesso subito ci ricordiamo. Ci ricordiamo subito. Ci dà con la mano tra la Laura. Vogliamo fare una cosa adesso, seguendo la prassi di ribaltati qua, consegnare il nostro bentornato a Gino Lorandi con i nostri complimenti. Portare il mini jolly anche al maestro Gianni Caracristi e accomunare veramente questo momento, questo nuovo inno di Francesco da Moser, la banda di Lizzana, Gino Lorandi, Ugo Gorgazzini e anche i dirigenti del Moser Club di Trento, che questa sera, vi di fortuna, sono qui con noi. Però, caro Presidente, qui manca un personaggio importantissimo. Quale? Manca Francesco Moser perché è dietro a fare il giro del Beggio. E lo so. Insomma, ha detto di fare auguri a tutti e sa della canzone, dell'inno che è stato fatto per Francesco. Voleva essere presente. Voleva essere presente e non ho detto purtroppo. Comunque è qui col pensiero e noi lo salutiamo con questo grosso applauso augurale. Sempre forza Francesco, viva Francesco. Vorrei che insegnare.